Oltre 800 posizioni lavorative fittizie nel settore agricolo per ottenere indennità di maternità, malattia, assegni familiari e disoccupazione per un danno complessivo nei confronti dell'Inps di più di 10 milioni di euro. La megatruffa è stata scoperta dai carabinieri del Comando Provinciale di Bari insieme ad ispettori provinciali dell'Inps attraverso centinaia di controlli che hanno coinvolto anche il Sud Foggiano e le province di Taranto e Matera. E' un'indagine importante perché ha messo in luce questo sistema truffaldino che ha visto coinvolti non solo falsi braccianti ma anche titolari di aziende e mediatore e commercialisti con grave inocumento per l'erario dello Stato e quindi dell'Inps. Dalle indagini sembrerebbe che i braccianti corrispondevano a una certa somma alle aziende affinché le aziende potessero poi denunciarli e quindi avessero la possibilità di conseguire delle prestazioni economiche. Questo è il meccanismo. Noi effettuiamo delle ispezioni mirate, cioè cerchiamo sulla base di alcuni indicatori che rivelano dei rischi cerchiamo di effettuare poi delle ispezioni nei confronti di aziende che appunto presentano degli indici particolari di rischio. Insomma il risultato è che è stata proprio questa operazione che i carabinieri, che il comando provinciale ha concluso. L'indagine va avanti anche grazie a questa task force che è stata risposta. Per un centinaio degli 831 denunciati a piede libero è scattata anche l'accusa di associazione a delinquere. Le indagini della task force attivata dai carabinieri insieme all'Inps a livello regionale ha permesso anche di bloccare i versamenti per 300 dei soggetti coinvolti, consentendo il recupero di circa 2 milioni di euro. Le indagini comunque proseguono in collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari per comprendere il coinvolgimento dei clan nella vicenda. L'indagine non è ancora terminata perché prosegue anche su altri versanti perché si sta verificando se vi sono interferenze organizzate in questo settore specialistico.